Musica Buonasera e benti a tazzo, agnovis, tragedie al Cricà d'Aldia, a pinciare una femmina di 63 anni nelle Tramontine, e è morta in un'esplosione dentro del magazzino dall'attività di distribuzione di robis e di bevi da l'OMP, che è giusto sotto dall'appartamento dei due. La Tramontine va ressi impiare la luce dal magazzino, che però ha le replenze di gas, colpe dal malfunzionamento di una bombola. Proprio che l'impiare il Cricà d'Aldia, è adatta la lestia al gas, facendo sclopare il magazzino. L'OMP calere al plan disore, non si affannuie, ma l'è sotto shock. Tre persone responsabili dagli scritti Novaks, che hanno sporchiato squelis e strutturi sanitaris, sono stati individuati e denunziati dalla polizia e dalla questura di Udin. e c'è una cubia di Udin di 32 e 20 votanti e un nome di cività di 50 votanti. I tre, che facevano parte dal gruppo dei VORIRS VV, avevano in casa purtroppo bomboluti di spray rossi, doppiati per fare gli scritti con la WV, e materiale di propaganda, quindi i Green Pass e gli vaccini. Il Comune di Udin si costituirà per il civile, quindi dai tre. Le spese, fatte per l'età, alla metoda in evidenza, il sindic Pietro Fontanini, appassano i 8.000 euro. Si è smontata la sfilata dai Novaks a Trieste di Luclis Rivis, si sono tirati da ogni circa 350 manifestanti, che però non hanno potuto entrare in Placione Unità d'Italia e per via dagli stransenni metodi e dagli sforzi dall'ordine. Ai partecipanti varessi indirivare molti salati, come anche a di che, che ha manifestato i raudi in tala zona di Placial Chiavris. Chiavris, in che caso, ha finito i fastidi, ha son stati, non hanno i organizzatori dalla sfilata, non autorizzati, ma anche un manifestante, che una volta è menato in questura e non l'ha voluto mettere su la mascaruta. Ha son dodici i muarzi colpe dal Covid-19 in Friul, Vignese e Iuglie, e tali e sultimi 24 ore. Di questi un'omp di 55 anni di Udin, 1.190 voti in un caso di positività, saltati fuori di 7.233 tampone e 8.239 testi svelze antigeniche. 25 le persone ricoverate in terapia intensiva, e 3.69 i pazienti ricoverate in altri reparti dagli ospedali. A Calin, di 30.000 le persone, che sono tenuti in questo momento in isolamento. Ovin di profittà come moda la tregua che nos dà il Covid per tornare a viergi tutte e centri restrizioni alla fine del Stato di emergenza. A dillo all'estate il Presidente della Regione, dalla Conferenza e dagli Regioni, Massimiliano Fedriga, nessun vuole slungare il Stato di emergenza nel Governo e nelle Regioni, ovin di superare queste fasi, anche per la indenanza con i vaccini. Ovin di molare la brena e sfruttare i momenti favorevoli dalla pandemia e per averci il più possibile. Alla ditta anche ora, Fedriga. Dostante studenti dall'Istituto Stringer di Udin hanno protestato per strada e vuoi di mattina per mettere in evidenza i problemi dalla scuola di Vial, Monsignor Nogara. Il Presidio è scominciato all'isnuf sotto i voi di polizia e carabinirsi. I problemi smettuti in mostre dai erleves a riguardo la sicurezza, il plan di evacuazione, la gestione dei spazi dalla mense, la mantianza di una palestra e la difficile gestione dai spostamenti dagli giornali che i studenti hanno di tornare a scuola dal dopo di Misti. Incidente di fortuna e cence ferite a Bagnarole di Sieste. Un giovine di Vincisi Sainz ha finito la macchina e tal Fossat ad orda alla strada e all'altece di une curve. Corinte per un trenta metro sedentri dal Fossal. La macchina è poi l'ade a sbatti, quintri di un pintut in cimente e si è ribaltata e tornata a finire un'altra volta sulla strada. Completamente ridisfatta la macchina in cui Pompirska ha scugnato tirato fu l'automobilista dall'Islamieris, ma nessuna egrivia e conseguenze palzovin che ha esaltato fu dall'incidente dove con qualche pacche. Si è tirato da dove vuoi per la prima volta la cabina di regia per Viodi, dice Muth, doprà i bez dal PNRR. Nussintefevele l'assessora Barbala Zilli. Io vi infatti vuoi la prima riunione da cabina di regia sul plan nazionale di ripartenza e resilienza. Un'occasione importantissima per mettere insieme non come tutti gli investimenti che la regione ha già fatto e che ha già fatto su queste ripartenze post-pandemiche, ma anche per viodi che sono intervenze strategiche che competono i nostri scomuni. Lo vi infatti insieme anche sin convins che questa ha sempre un'occasione irrinunciabile per svizzinare poi possibile tutte queste mole importanti di investimenti agli nostri territori, in particolare alle imprese e ai comuni. Se continueremo a farlo con un monitoraggio mensile e anche poi in curto di tutte le operazioni che vi infatti tra i team che sono un'evole estrella dal plan nazionale. Pordenone non sarà la capitale italiana e dal libro dal 2000, vi chiedo oggi. la comunicazione dalla città che ha vinto è stata da De Vue dal dopo di Misdi. A Trionfa è stata Evrea in Piemonte e Pordenone e ieri è presente alla cerimonia col sindico Alessandro Ciriani in collegamento video. Per usare di Pordenone e Evrea ieri rivati in finale anche a Liano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia e Pescara. Pordenone aveva presentato anche l'inchiartamento per la candidatura a Capitale Tagliana della Cultura 2024, ma un par di settemane in Sindaur e ieri restate fur dal gruppo dagli Sdiz e Città finalisti. e anche parus not alle dut si torning a Vio di Domandi Sere a 9 man culvinc mandi. di Domandi Sere